Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Alma Social TV, il training broadcaster di Alma Laboris Business School, sono Marco Stile, mi presento e faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris, sono davvero lieto di essere qui con voi per presentarvi l'evento gratuito acquistate per assistere. Vi diamo il nostro più caloroso benvenuto sulla nostra piattaforma di trasmissione di contenuti online, nello specifico ci troviamo oggi nella sezione Career Step in cui troviamo tanti degli eventi che sono volti, dedicati a migliorare la spendibilità nel modo del lavoro delle risorse attuali che popolano un contesto così pieno di concorrenza e così spietato si può dire da certi punti di vista e l'approccio al contesto professionale appunto in cui siamo immersi. Parleremo oggi del colloquio di lavoro e precisamente di come gestire in maniera strategica la comunicazione tra quella che è l'intelligenza emotiva, una tematica di grande rilevanza, grande attualità nel contesto attuale e le competenze di ognuno di noi appunto del metodo STAR, di come controllare la comunicazione non verbale. Lo faremo con la dottoressa Alessandra Andrioli che ho il piacere di introdurvi. La dottoressa Andrioli è una professionista dalla grande esperienza e applicazione diremmo nel campo delle risorse umane, HR senior consultant su profili e carriere, iscritta all'album nazionale degli orientatori del MIUR e specializzata nella consulenza direzionale in ambito aziendale, ha maturato tante conoscenze in ambito HR con un particolare focus sulla selezione e il recruiting. La finalità di questo evento formativo gratuito è ovviamente quella di dare un approfondimento per quanto concerne questa tematica così pregnante, così interessante, ma anche quella appunto di condividere un po' quella che è la portata e quello che è il taglio delle nostre attività formative e in tal senso abbiamo piacere di lasciarvi alcuni dei nostri riferimenti in link per accedere alla nostra offerta formativa e appunto per consultare quelli che sono tutti i nostri percorsi di alta formazione. Per coloro i quali fossero poi interessati a un confronto più approfondito il consiglio è sempre quello di prenotare un colloquio di orientamento selezione a uno dei due link che vi ho lasciato qui in grafica, che vi incollerò in chat insieme al link per accedere all'offerta formativa, il primo è relativo ai percorsi di alta formazione mentre invece l'ultimo link che vedete è relativo ai percorsi full time, è un ottimo modo per scoprire qual è il percorso più adatto al proprio sviluppo di carriera anche per noi, per presentarci al meglio e per illustrarvi quali sono tutte le opportunità, le potenzialità che vogliamo offrire ai nostri discenti per quanto concerne la loro crescita professionale. Diciamo che adesso passiamo da un colloquio a un altro perché parliamo di nuovo di colloquio di lavoro, non voglio dunque sottrarre altro tempo ad Alessandra. Io Marco ti ringrazio veramente tantissimo per questa egregia introduzione, come già hai detto, anzi hai presentato in maniera veramente egregia, abbiamo strutturato questo percorso insieme con l'alba, la Boris, un attimo che prendo le slide, eccole qui, e solo un attimo perché ho un attimo di… aspettate, ecco questi sono quei contrattempi tipici del… ok dovremmo esserci, perfetto ci sono. Allora come dicevo prima ringrazio Marco per l'ospitalità e la rappresentazione è veramente notevole. Mi occupo di risorse umane, mi occupo di inserimento, quindi orientamento e selezione e formazione di soggetti che si approcciano e per la prima volta al mondo del lavoro, ma anche di ricollocazione all'interno del mondo del lavoro. Mondo del lavoro che ultimamente sta subendo dei notevoli cambiamenti, magari ai più non rilevabili, ma chi ha un occhio attento e che vive all'interno dello stesso sono abbastanza tangibili. La volta precedente ci siamo approcciati a uno degli aspetti che ci permette di affrontare al meglio un colloquio di lavoro, il cui obiettivo è chiaro, è quello di essere scelti e di giungere all'assunzione diretta. Abbiamo affrontato l'elevator pitch, cioè un modo di presentarsi corretto di fronte all'azienda, un metodo quello che non può essere confinato unicamente al mondo del lavoro, ma trova anche applicazioni in altri contesti, quindi è uno strumento che va costantemente arricchito perché noi cresciamo. Lo stesso dicasi per il metodo STAR. Cos'è il metodo STAR? Il metodo STAR è quella tecnica che ci permette di elaborare delle risposte coerenti a delle domande che la cui finalità è quella di comprendere il grado di resistenza allo stress e di difficoltà nel rispondere a determinate domande che possono mettere in impasse il candidato. Quindi la capacità di elaborare della mente fredda, mantenendo un certo plomb, mantenere quindi una coerenza e rimanere nel contesto lucidi, a formulare delle risposte coerenti e persuasive. Di che cosa si compone? Quali sono gli elementi che danno vita a questo metodo STAR? Si compone di quattro fasi. La prima fase, con questa slide che presento, il metodo che si ritroverà poi alla fine delle slide stesso, come penultima slide che va proprio a concludere questo percorso. Il primo step è la situazione. Cioè ad una data domanda, aperta o chiusa, difficile o facile che sia, dobbiamo essere in grado in maniera precisa e concisa di andare ad analizzare la situazione, il contesto che ha dato origine a quel determinato problema. La seconda fase e il compito molto importante, la seconda e la terza fase sono gli elementi più determinanti, le chiavi di volta proprio dell'uscire fuori da una domanda imbarazzante, tra virgolette. Quindi il secondo è il compito, il ruolo che il candidato ha svolto all'interno di quella data situazione, all'interno di quella data azienda e l'obiettivo che si è predisposto per andare ad affrontare la soluzione del problema. Il terzo è l'azione, quindi che cosa ha fatto sia individualmente o anche nella gestione del gruppo a risolvere quel problema. E il quarto è il risultato. Il risultato può essere sia positivo che negativo. Vedremo poi in seguito quanto importante sia anche andare a denunciare un risultato negativo. Più volte capita che il candidato durante un colloquio cerca un pochettino di svincolarsi, di andare a raccontare una situazione nella quale non è stato brillantissimo. Invece paradossalmente quello è un indice di crescita e vedremo in seguito. Quindi andiamo con ordine. Cos'è il metodo star? Abbiamo capito che è una tecnica per rispondere a delle domande che puntano a capire come il candidato reagisce in delle situazioni di stress o difficoltà. Perché mai l'azienda ha necessità di cogliere questa sfumatura? Perché nelle aziende si vive di stress, si vive di situazioni complicate. Già appena si mette piede in azienda e si alza il telefono nasce un problema. Quindi avere all'interno delle persone che sono in grado di mantenere un self-control, di mantenere sangue freddo, diremmo in termini molto semplici, di fronte a delle situazioni difficili è fondamentale per l'azienda. Quindi andiamo a capire come in questo modo, provocando o creando delle situazioni di disagio, andiamo a capire come la futura risorsa, il futuro dipendente è in grado di affrontare o reagire a determinate situazioni, anche abbastanza complesse. Dal canto del candidato, qual è l'utilità di questo metodo? L'utilità è quello di riuscire ad elaborare delle risposte coerenti e persuasive, soprattutto ad avere una logica nel racconto che non ecceda nell'essere prolissi, perché poi alla fine si annoia il proprio interlocutore e perde di attenzione, ma anche di focalizzarsi su se stessi. Ed è questo, come poi vedremo nel proseguo, è un metodo che è di fondamentale aiuto per quelle persone che in generale fanno difficoltà a focalizzarsi e su se stessi e sul compito, sulla situazione. Abbiamo visto quindi che un acronimo che sta per situazione, quindi il contesto nel quale si è andato a creare, ha avuto origine quel problema da risolvere, il compito, come abbiamo detto all'inizio, cioè il ruolo che il candidato, la risorsa eccetera, svolge in azienda e l'obiettivo che deve essere raggiunto l'azione, quindi il metodo applicato per venire fuori da quella situazione di impasse e il risultato, che chiaramente ci si auspica che sia sempre positivo, però siamo esseri umani, non sempre raggiungiamo i risultati sperati e alle volte falliamo, anzi forse sono più le volte che falliamo che quelle nel quale otteniamo dei risultati. Il fallimento non deve essere mai taciuto, ma deve essere saputo, raccontato. Perché? Perché dal fallimento nasce l'esperienza, quindi la consapevolezza di dove si è sbagliato e in una situazione dove si ha una replica della difficoltà o quantomeno qualcosa di simile, dimostra che abbiamo imparato dagli errori che abbiamo fatto e siamo in grado di correggere il tiro. Questo è un aspetto di fondamentale importanza per le aziende, perché avere all'interno delle persone che fanno tesoro delle proprie esperienze, soprattutto quelle errate, è la soluzione ad hoc, quella auspicata, quella sperata, persone che non ripetono gli errori. Quello è invece una situazione di notevole imbarazza. Molti recruiter, molte aziende fanno ricorso allo studio, quindi al colloquio comportamentale. Perché? Perché avere all'interno degli individui, dei dipendenti che sono in grado di interagire positivamente con l'ambiente lavorativo è una cosa notevole. verificare le hard skills, quelle che poi compongono la lista della spesa, come definire il curriculum, è facile. Ci sono le attestazioni, ci sono i percorsi di crescita, le qualifiche, eccetera. Ma andare a verificare i talenti, le attitudini, le applicazioni psicologiche, reazionarie, non è cosa facile. Le soft skills più comuni, quelli che poi sono facilmente vendute nei curriculum, sono l'adattabilità, l'approccio culturale, la collaborazione, capacità di leadership, potenzialità di crescita, capacità di discernere le priorità e soprattutto di problem solving. Queste sono quelle più note, però una cosa è scriverne e quindi abusarne anche di queste doti, che magari non ci apportengono, non sappiamo neanche che noi le possediamo. Altra cosa invece è avere la consapevolezza e quindi dimostrarle. E come si vanno a dimostrare? Sennò in una situazione, in un contesto di assoluta, di difficoltà, anche diverso, nuovo dalla comfort zone nella quale siamo abituati a lavorare e ad operare. Quindi si creano proprio delle domande che pongono, la cui finalità è quella di mettere in difficoltà il candidato. È opportuno, nel momento in cui ci viene rivolta la domanda, rimanere e fare affidamento a degli avvenimenti reali e veritieri, nella quale noi ci siamo trovati. In modo che chi ci ascolta li percepisce come reali, come veri. Il modo migliore quindi possono essere fatte sia per verificare questo metodo, quindi per dare avvio a questo colloquio comportamentale e sia fare delle domande semplici, tipo ne cito alcune e ne do anche alcune rappresentazioni semplici di come si può approcciare a delle domande, sia semplici che complesse. E alla fine delle mail, delle slide, vengono citati più o meno 20 domande classiche, più o meno utilizzate a cui ci si può fare riferimento per capire la struttura delle corrette risposte. Quindi una delle domande semplici è in quale condizione ci siamo trovati e cosa ci è stato chiesto di fare, che magari fino a quel momento non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai approcciato e qual è stata la nostra reazione. Quindi è sempre bene andare a circoscrivere la situazione, il problema, la metodologia e il risultato. Diventa più complicato quando abbiamo invece di fronte delle domande complesse. Una delle domande che mette in assoluta difficoltà il candidato è quella nella quale l'azienda chiede il perché il candidato ha scelto quella data azienda e non un'altra. I timori che vengono immediatamente alla coscienza, quindi a un livello consapevole del candidato e di saper scegliere bene le risposte, perché magari una parola di troppo può inficiare il risultato finale. Ricordiamo sempre che tutti i vari step sono sempre finalizzati ad acquisire, ad essere scelto per quel lavoro. Quindi c'è un investimento psicologico emotivo non indifferente e la necessità di mantenere quel sangue freddo di cui parlavo all'inizio diventa veramente un elemento indiscutibile. Non si sa mai quindi fino a cosa si può dire, cosa no, magari una parola di troppo può infastidire, una cosa è certa, bisogna essere brevi, precisi e coincisi e soprattutto ricollegandoci alla fase, per chi mi ha seguito sa a cosa mi riferisco quindi all'elevator pitch nella fase di presentazione, ad incuriosire sempre il nostro interlocutore. Il profilo professionale è facile, come dicevo all'inizio, andarlo a esporre. Le hard skills le abbiamo già detto, sono l'utilizzo di macchinari, le competenze certificati, eccetera, tutta roba che può essere facilmente verificabile, può essere facilmente attestabile. Ma le soft skills, cioè le caratteristiche relazionali, la capacità di tenere sotto controllo la propria emotività di fronte ad una situazione non è facile verificare, non è facile acquisirla e andarla a gestire e verificare. Conoscere una persona non è una cosa che si può fare in 5 minuti, in 10, alle volte si passano anni e si arriva al punto di dire pensavo di conoscerla, invece non la conoscevo, perché magari davanti ad una situazione particolare fuori dal comune, di fronte alla quale non si è mai trovata, quindi non ha avuto quegli strumenti reattivi tali da permettere di poterla affrontare al meglio, può avvenire meno. Dicevo quindi, come doti, ne ho elencato alcuni, l'intuito, l'empatia, la creatività, la produttività, eccetera. Le aziende non cercano esclusivamente o unicamente titoli di studio, accademici, non accademici, certificati, eccetera. Quello di cui hanno bisogno, come abbiamo già detto e più delle volte, oggi le aziende hanno bisogno di gente che sa gestire. La gestione passa anche dall'aspetto emozionale, dalla capacità di tenere sotto controllo le proprie reazioni, le proprie emozioni. E all'interno di un contesto aziendale, dove, mi ripeto, i problemi sono all'ordine del secondo. Avere all'interno una persona che, pur essendo fantastica, un genio, preparatissima, eccetera, ma di fronte alla difficoltà, al cambiamento, importantissimo, non sa reagire, perde d'animo, è un peso. Non l'andrà mai ad assumere o quantomeno a confermare nel proprio ruolo. Il cambiamento è un elemento importante da tenere sempre sotto controllo. Cambiamo noi, cresciamo noi, cambia l'azienda, cambiano le esigenze dell'azienda, cambiano i personaggi attori dell'azienda. È tutto un divenire. Quindi rimanere ancorati a determinati schemi rigidi, che non possono essere facilmente applicabili, è morte civile. Non aiutano assolutamente. Quindi il metodo START ci aiuta ad affrontare, capendo la struttura ed avendo a nostra disposizione gli elementi utili per andare ad elaborare verbalmente, nonché praticamente, la soluzione a determinati problemi. È importante perché nel raccontare, nel rappresentare noi all'interno della situazione e del contesto, dobbiamo compiere un passo fondamentale, quello di mettere in luce noi stessi. Per alcuni può essere una cosa naturale, normale, raccontare se stessi, essere primi protagonisti della propria storia. Per altri, invece, può essere un problema. Essere al centro dell'attenzione può creare delle difficoltà. Ripeto, non tutti siamo fatti allo stesso modo, siamo degli esseri umani, individuali, ognuno con delle proprie reazioni di fronte a un problema. C'è chi reagisce tranquillamente, c'è chi invece soccombe. Chi per timidezza non ama essere sul palcoscenico, chi invece è migliore occasione di dare massimo sfogo alla propria creatività. È importante, quindi, utilizzare questi indicatori che costituiscono questi step di questo metodo per andare a rappresentare, a convincere il nostro interlocutore che siamo persone giuste al posto giusto, senza per questo cadere negli eccessi. Eccessi che comunque, in qualunque contesto, creano sempre un danno. Quindi, dimostrare e fare breccia non è facile durante un colloquio, dove abbiamo la consapevolezza, dove abbiamo investito molto emotivamente. Quindi siamo quasi, come dire, un po' frenati nel riuscire a dare il meglio di noi stessi. Ebbene, in questo caso, utilizzando questo metodo, siamo portati a sbloccarci da questa situazione perché acquisiamo dei nuovi strumenti che ci permettono di padroneare, padroneggiare anche le situazioni più distanti da noi stessi, più difficili. Il colloquio, quindi, di tipo comportamentale soddisfa proprio queste esigenze e da parte dei selezionatori, ma anche, paradossalmente, da parte del candidato. Da parte del candidato perché mai? Perché un candidato che è in grado anche di utilizzare questo strumento a suo vantaggio, ponendo delle domande, magari anche al limite, all'azienda, dimostra la capacità di gestione, capacità di interessamento e cerca anche di capire fino a che punto, in quel contesto lavorativo, un problema viene stressato e come viene risolto, o meglio, come potrebbe o vorrebbe essere risolto da parte dell'azienda. È importante durante l'esposizione andare a raccontarsi, sì, andare a focalizzarsi su se stessi e anche ad essere in grado di saper mettere in luce i propri limiti. Senza però andarli a enfatizzare, ma neanche a minimizzarli, cioè a farli annullare, dimostrarsi dei superman per poi raccontarsi come dei superman, per poi invece essere, come dire, dei normali comuni, esseri mortali, non certo farà il nostro gioco, cioè non ci permetterà di certo ad raggiungere il nostro obiettivo. Le domande più frequenti che puntano ad valutare queste soft skills passano quindi attraverso questi passaggi che vi ho già enunciato. Il primo passaggio, quindi abbiamo detto, che è descrivere in modo dettagliato la circostanza della mansione all'interno della quale si sono creati determinate situazioni. Il secondo step, l'abbiamo detto, è l'azione, quindi descrivere il proprio ruolo e le metodologie utilizzate quale è l'azione e in questa fase è importante, come dicevo all'inizio, focalizzarsi su se stessi, tralasciando un attimo il ruolo dei colleghi o quantomeno non enfatizzarlo più di tanto perché in questo contesto parliamo di noi, parliamo delle nostre capacità di andare a risolvere dei problemi, di sapere intervenire, di sapere interagire col gruppo, di modificare delle situazioni che all'inizio si dimostravano negative per le nostre performance sia nostre che aziendale. E quindi il quarto step, il risultato, che come ho detto non deve essere necessariamente la narrazione di un risultato positivo, però può essere anche la narrazione di un risultato negativo, purché nella narrazione si dimostra che abbiamo imparato dai nostri insuccessi e li abbiamo messi a frutto, impedendo poi di andare a replicare determinati errori. È importante quindi fornire dei dettagli se sono richiesti perché questo fa dimostrare che abbiamo capacità di analisi e abbiamo una certa continuità logica nel raccontare perché un racconto un po' confuso tende ad annoiare, a far perdere di appeal e di interesse il nostro interlocutore, perché mantenere l'attenzione alta, vivace è sempre un elemento positivo nella conduzione dei colloqui. È importante quindi che la storia venga raccontata bene, che il messaggio finale delle nostre capacità non vada perso e che sappiamo comunicare che siamo in grado di agire, quantomeno di affrontare delle situazioni anche molto distanti dalle nostre applicazioni. Quindi sostanzialmente in questo contesto l'obiettivo è quello di dare delle pillole, quindi di dare delle informazioni abbastanza stringate ma alquanto chiare per andare a gestire determinate situazioni o quantomeno per prendere coscienza che un colloquio di lavoro non è un semplice andare lì, sedersi e far due chiacchiere. Quelle due chiacchiere apparenti sono il frutto di uno studio, di un'analisi, di una serie di processi che ci portano ad avere successo in quel contesto, ci portano ad avere successo attraverso quelle chiacchiere, quindi non è nulla di improvvisato, non è nulla, non esiste qualcosa di oddio facciamo due chiacchiere al bar eccetera. Certo, due chiacchiere in un contesto rilassato sono sempre piacevoli, dimostrano la capacità di gestione, ma sono tutti passaggi e non esiste solo il metodo star, ci sono altri infiniti passaggi che ci portano poi al successo e in questo caso abbiamo, in questo contesto abbiamo elaborato un secondo approccio, un secondo metodo che ci porta proprio al successo. L'importanza di questi passaggi, l'importanza di queste informazioni seppur in pillole è dato da quarsi che il candidato possa prendere coscienza e consapevolezza delle proprie competenze, saperle analizzare, quindi essere introspettivo e saperle comunicare. La comunicazione non è una cosa così scontata e così innata, sappiamo comunicare tra amici, ma saper comunicare in ambienti formali non è facile, non è facile neanche alle volte per chi come me è abituato a lavorare in svariati contesti e accogliere da subito le sfumature psicologiche del proprio interlocutore. Perché? Perché siamo esseri umani e ci sono un'infinità di elementi che possono interferire in quel dato momento e quindi anche andare ad inficiare il risultato finale. Di seguito ho elaborato una serie di domande tipiche che vengono fatte comunemente durante un colloquio comportamentale dove vado ad analizzare una data situazione, un dato compito, date azioni scelte e il risultato ottenuto. Sono circa 20, non le vado a denunciare tutte perché altrimenti diventerebbe a questo punto noioso veramente pesante. Però il consiglio che do è quello di approcciarvi in modo del tutto sincero. Queste domande, queste situazioni vi saranno capitate, non esulano dal percorso lavorativo dei dipendenti. Almeno una volta nella vita abbiamo avuto a che fare, abbiamo dovuto affrontare un conflitto con un collega piuttosto che una situazione, un compito nuovo o anche essere spostati da un ruolo ad altro, essere prestati in altri contesti perché magari il collega in quel momento non era disponibile o assente. Quindi una serie di situazioni che abbiamo vissuto e ho elaborato, come dicevo prima, il modo migliore per affrontarli e per narrarli in maniera convincente, in maniera chiara e tale da far emergere le nostre capacità. Perché questo? Perché ripeto, e non lo finirò mai di sottolineare, che le aziende non cercano delle persone unicamente inquadrate nel lavoro, cioè nelle competenze. So usare il computer, basta, finisce lì. Ma hanno bisogno di persone che sappiano fare gruppo all'interno della propria azienda, sappiano gestire i rapporti interculturali. Oggi possiamo trovare fianco di scrivenia persone provenienti da altre culture, altre applicazioni, altre emotività. E andare a creare degli scontri quotidianamente che crea una situazione di disagio nell'azienda stesso. Faccio una piccola parentesi. Quanto è importante saper gestire le emozioni all'interno di un'azienda? Tempo fa ho avuto, questo è un caso proprio vissuto, che vi racconto. Chiaramente ometterò dei riferimenti perché non è corretto farlo. Una situazione in cui una persona veramente talentuosa, una persona brava che svolgeva il proprio lavoro in modo eccellente, va in crisi emotivamente perché si trova di fronte al rinserimento di una persona, di un collega andato in pensione che viene riassorbito dall'azienda per un previssimo periodo perché l'azienda era sotto di organico. Quindi serviva una persona, lì al momento fu fatta questa offerta a questa persona che nonostante fosse in pensione ha accettato di dare una mano all'azienda. Questa persona, questo candidato, questo dipendente, bravissimo, non ha saputo interagire con l'ex dipendente rientrato nel ruolo. Si sono venuti a creare dei sapori, ma di sapori veramente che hanno portato al licenziamento di questa persona bravissima di talento. Qual è stata la motivazione? La motivazione è stata che non ha più la sua incapacità di gestire le relazioni interpersonali. Una nuova generazione a confronto con una generazione un po' d'antè. Ci sono visioni completamente diverse, applicazioni di metodi diversi. Ecco, saper mediare anche in queste situazioni fa emergere le proprie competenze, tra virgolette, emozionali, le proprie soft skills. Quindi andate a riflettere su quanto è importante andare ad evidenziare questo durante un colloquio di lavoro. Un colloquio di lavoro, ripeto, non è centrato unicamente sulle hard skills, ma fondamentalmente sulle soft skills e andarle a rappresentare in modo coerente ed consapevole. Perché una persona che parla di sé in maniera sicura, in termini sicuri, consapevoli, è un biglietto da visita al quale l'azienda non può permettersi di dire no. Quindi questo è l'importanza di saper comunicare emotivamente il capitale umano, l'importanza di gestire le persone, saper interagire con loro, utilizzando fortunatamente degli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, utilizzandoli al meglio, a nostro vantaggio, ma anche al vantaggio di chi ci attore. Io credo che con questo ho terminato. vi anticipo per chi fosse interessato, che in questo ringrazio tantissimo l'Anna, la Boris, abbiamo definito un percorso collaborativo che andrà ad analizzare i vari punti, i vari metodi, strumenti, meglio ancora, che noi abbiamo a disposizione per affrontare al meglio il colloquio, il cui obiettivo finale chiaramente è l'inserimento in ambito lavorativo. Un colloquio che non è mai scontato né per chi è alla sua prima esperienza, ancor di più per chi cerca un rinserimento lavorativo, e quindi già provato emotivamente deve fare un lavoro sulle proprie emozioni non indifferente, e chi invece ha semplice voglia di cambiare e creare nuove esperienze. Quindi io l'invito che vi faccio è quello di seguire proprio tutti i percorsi che l'Alma, la Boris, stiamo con cui sto pianificando, perché sono degli strumenti a vantaggio, degli strumenti orientativi e formativi non indifferenti, il cui unico vantaggio siete voi a trarne beneficio. Io credo che veramente ho detto tutto e ringrazio Marco, ringrazio l'Alma e la Boris, e quanti hanno partecipato.